La San Giovannese sta per presentare il mister Ciro Ginestra. L'ex bomber di Gallipoli e Salernitana sarà presentato domani alle ore 15 nella sala stampa del Fedini. Sarà l'occasione per conoscere il trainer alla sua prima guida ed una prima squadra, ma anche per vedere finalmente la dirigenza azzurra che in qualcuno dei suoi componenti si presenterà alla città dopo aver lavorato sotto traccia. Tutto l'impegno degli ultimi giorni era sul perfezionamento della documentazione per l'iscrizione alla Serie D, così come alle conferme di alcuni giocatori della passata stagione come Capitano Mugelli. La società, in attesa di sapere in che girone sarà inserita, possibili novità in settimana, è attiva sul mercato, dopo sfumate le trattative per i fantasisti Aliboni e Vignali, accasatesi entrambi a massa, si punta ancora il metronomo Barone, ex San Benedettese, che ha contribuito in maniera decisiva alla vittoria del Girone F.